Allora intanto scusate se pubblico dalla macchina va bene ma avevo proprio bisogno di sfogarmi l'ho già fatto allo stadio e lo continuo a fare qui. È una vergogna, ci siamo salvati ma meritavamo di andare giù assolutamente, io mi vergogno di essermi salvato in questa maniera. Questa è una squadra senza dignità, non hanno spina dorsale e la riprova è stata stasera, giocatori già in vacanza da un mese, due punti, due punti da quando è tornato Montella, capito? Giocatori che sono già in vacanza, giocatori che sono già stati ceduti e ci auguriamo che Vertù abbia capito che qui a Firenze non si viene a fare le passeggiatine o le vacanze in attesa che una grande squadra ti chiami, capito Vertù? Siete indegni, vi dovete vergognare di aver indossato per un anno intero la casacca della Fiorentina perché questa, questi, e sono colori che rimangano, capito? A prescindere da voi vi dovete vergognare fuori dalle palle tutti, non ne voglio vedere più uno, non ne voglio vedere più uno il prossimo anno, dal presidente al direttore sportivo, all'allenatore e a tutti i giocatori dovete levarvi con enorme rispetto dalle palle tutti quanti, non ne possiamo più, commisso non commisso, della valle, non della valle, io non ne voglio più vedere mezzo di questi giocatori, una partita indegna, l'ennesima partita indegna, ci siamo salvati per demeriti degli altri, non per meriti nostri e guarda, te l'arrivo a dire, mi dispiace tanto che l'Empoli sia retrocesso perché mi dicono abbia giocato una grande partita e mi dicono anche che comunque nell'arco delle ultime settimane ha dimostrato di essere una squadra con le palle, con le palle a differenza nostra, e io non faccio gli sfoghi, capito, per prendere più visualizzazioni, non me ne frega un cazzo, ma siccome ci sono alcuni, anche dentro Youtube, che contestano chi ha contestato la squadra, c'è Montella che dice che l'ambiente ha destabilizzato i ragazzi e quindi stanno rendendo meno, c'è chi nelle radio più importanti, nelle radio più ascoltate, dà la colpa a Pioli, che ha due mesi che non è più a Firenze, alla Fiorentina, ma vi rendete conto in che mani siamo? Vergognatevi, avete fatto ammalare un'intera città, l'avete abbindolata con la sindrome di Gubbio, oddio, ora si torna a spalare la neve a Gubbio, oddio, ora si torna a giocare contro i Rimini, ma benvenga se questo significa levarsi dalle palle chi ci ha portato in questa mediocrità, vergognatevi, vergognatevi, non vi voglio più vedere, fuori dalle palle tutti, dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo, basta, fine, ciao.